facciamo il live bella sono una persona che non conoscete sono venuto qui per stuporvi lui è bluestar che l'ha amato mano che ha amato anche bluestar perché ci sono due che sono usciti dal film emoticon alessio e francesco e poi c'è e c'è uno che è uscito da full out il mio bambino dino chiede trasciato e dai creatori di skyland ecco qui spyro chi è che ha crashato invitate a francesco eh invitate a francesco ragazzi eh dici dici chi è il gos yt no per coppa di dtt e chi è il gos yt ok chi è il gos scrivetevi punto e se vi scrivete in pratica arriva 30 iscritti no niente ancora stiamo aspettando che entra francesco bella live aspettare due ore uno che non entra donna un attimo a bere no non sono ben normalizzata assenendo da live metto mi piace ancora sort è andato un attimo a bere chi ho il gos metterlo così si è andato un attimo andare è andato un attimo a bere allora un attimo che io mi devo metterlo due secondi a una skin nel ciondolo della papapera ragazzi aspettiamo un attimo a dino dino manca dino manca dino deve un attimo comprarsi una skin qualcosa vai fatto fatta x400 vuole stare sempre con me è tipo un esbico anche io voglio stare contro ragazzi però non posso ora dopo facciamo cambiare di squadre dopo facciamo cambiare di squadre e ancora un'altra squadra ma non c'ho il big ma si stavo aspettando dai li avviate però raga si aspettate un attimo raga che mi devo vorrei ma non posso ecco un attimo a vedere se la live va c'è una si sta guardando la live una si sta guardando la live l'operatore verrà io vorrei che verrà ma ciò par non potrai e ancora un'altra fama conserverò un'altra fama notare l'italiano c'è uno che guarda la live giusto per dirvi salutiamolo ciao è uno di voi cento per cento chi è veramente di voi guarda la live? no lo so io aspettate che devo un attimo mettermi una cosa al mio fantomatico termite perchè? raga ha crashato ma invitatelo queste sono le live di keyholgax un commento attenzione se nemmai guiligio lo picchio ciao domenico campelli campelli camperato 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 iscriviti iscriviti e dimmi quanti iscritti ho quanti iscritti ho ora 27 vediamo più io 28 quindi 28 no perchè non ti fa vedere tu quando ti iscrivi tu ti aspettai tantissimo tempo ah si no io vedo 26 io vedo eh raga non è che è crashato proprio spento 2 ragazzo yt ora capriate facciamo due video allora si hai detto live rainbow six siege sex live hai scritto live rainbow sex sex come dovevo scrivere 6 io sono sexy ah sbagliato a scrivere cazzo ah 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 è l'easter egg abbiamo capito qualcuno guarda la live chi è che guarda la live io se guarda la live non va a guardarla live raga guardiamola così noi sappiamo no raga no siete della merda di cancro allora io faccio così lo vedete? vedete il mio schermo? dai dai non guarda asci il termite dai raga siete della merda vabbè due di loro no raga però vabbè io chiudo il telefono no raga se guardate veramente non c'è chiudi youtube chiudi youtube ho chiuso ho spendo il telefono che ci avete voi? chi ci avete voi? non è vero vi state ancora vedendo la live pezzi di cacca vi vedo non è vero voglio vedere a me me lo dice se ve la state guardando si due di loro in live che sta guardando uno io non sono in live io ho spendo il telefono rimane solo uno se non scrivi il commento scrivi il commento quindi si sta guardando la live se non lo scrivi siete voi due è coso? chi coso? come si chiama? blu star si ma chi c'avete? ok io ho spendo il telefono io ho spendo il telefono sto sul ma chi c'avete? ce lo dovete dire dai raga però non è giusto cosa? diteci che operatori so ma che valkiri? veramente? si si oh è vero andiamo in gioco andiamo in gioco andiamo in gioco Dino comunque qualcuno di voi sta ok non andiamo però zitti e raga ok poi ho 0 di loro che guardano la live che c'è? non fate più spawn kill cambio caricatore hai visto? 0 di loro vuol dire che io non io non guardo non fanno spawn kill ma che cosa è? però raga Dino sta fk tipo sento un porcellino dinghia fuori no raga però sto ancora fk Dino ma dove è? le ho piaccate bene le cam io non l'ho proprio vista raga ecco io finalmente Dino va però sanno che operatori ci abbiamo perchè hanno guardato la live ricarico e ora io ora lo stiamo guardando c'hanno smoke e valkiri comunque stanno sopra raga se la guarda se guardate ancora la live buttiamo e la facciamo da soli una telecamera qua una telecamera qua oh ho visto qualcuna oddio contenitore di biorischio trovato ora raggiungetelo stavo dormendo si o no signori no stavo ho usato il cosa di Ash di Dino grazie Dino che fai i buchi per me chi è Ash? no ma non muori non muore comunque bluster eh stava tipo fk io lo beccavo ti beccavo lo so lo so ma tipo stava così fk con pompa credo e improvviso si sveglia comunque lo sparato attiene un pizzico di vita metà tipo oh ma che cos'è sto poco tempo è la mia la presenza ah è vero Dino è stato fk l'ho vinta sta lì dietro no no dai l'altro lì l'altro lì l'altro lì dai non l'ho visto no Dino le hai sottovalpati voleva farvi con la pistoletta ma Dino eh e poi sto mangiando ah ecco infatti tipo Dino facevo i 360 con la pistoletta non c'aveva senso ma allora ma adesso te che grado sei? ehm come si dice oddio qualcosa eh che guardate il mio grado e capirete chi è il più pro raga dopo rami che c'è raga dopo eh bronzo bronzo 3 sei bronzo si bronzo 3 bravo mamma mia sono oro 4 bella raga io sono io sono sceso raga io crash io ero bronzo 4 raga io crash segnalalo blu star in ma te tu ha sconfil dino non gioca non gioca non gioca non gioca secondo me blu star loro lo fanno dalla porta sicuro no lo fanno da camera bambini grande e mieghe è spotting no infetti c'è un colpa' vero no dai però raga questo qui sa ah no oh vedi un altro ma stavi dronando no usa le hack blues stavo dronando all'improvviso si è scelta si è scelta ma scusa ma che dici che tu metti tutto il drone eh però sta vfk tutto il tempo vabbè non fa niente devo giocare a serio dino a gioco a serio aspetta ma a gioco a serio a gioco a serio mi prendete per uno che usa le hack sta lì dino aspetta aspetta lo spot giusto per fargli lo sicare gioco serio ora raga volete che giochiamo serio eh ok ok quanti spettatori ci sono alla live no dai ma siete voi due no tre spettatori in live raga io non ci sono io sto giocando vabbè raga per chi ora ho visto la smirata che ho fatto per chi ma non ci credete non ci credete perché è arrivato poi in live perché è arrivato poi in live voglio dire solo una cosa ma giochiamo serio dino gli spacchiamo il culo ma io io sono crashato due in live uno si è andato quindi valchiria ho visto già una sua black rompigliela con twitch dino no brutto scherzo ok grazie a dio no lo stavo bleffando stavo stavo bleffando idiota ok oddio oddio droni un drone di sotto ma non fanno spawn kill ma non fanno spawn kill anche bm no però mi sai per beccare chiorglaz mi sai per beccare serio dipende dove ho sparato ero in camera bambini stavo guardando le gambe io non ho sparato camera bambini e di noi sono sparato da camera massimo no cazzo uno di vita ahhh chiorglaz bello fuge te ti credi che sia bello ma non è solo bello mamma mia un tappo dino mi ha acceso un tappo black ice black ice ci sta nel titolo lo volevo uccidere con la pistoletta però mi ero appena rampinato e non lo avevi 67 67 61 ping quanti spettatori a uno perché fate schifo allora stanno abbassando i cosi in live no non è vero adesso ci impegniamo allora si divertiranno a potervi perdere dino capisciammi il trucchetto che l'operatore mi so preso nasconditi meno 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 ok si ma questi qua dronano dopo capivo sono davino se lo fanno dopo perdono tempo è meglio per noi facciamo se dronano fuori uno bello bella frosta beh ormai puoi farci vedere no c'ha twitch c'ha twitch c'ha twitch c'ha twitch c'ha twitch c'ha allora devo trovare più ce la puoi rompere più ce la puoi rompere dove la metto l'ultima no 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 mi hai capito ma cavolo no vabbè uso un altro mamma che schifo di giocatore che usa frost solo per ma veramente ti metti ad usare l'altro non ora io faccio così faccio io vediamo che hanno come che hanno alessi è forte è forte che vuoi ah ma vuol fare uno ti vuole impugnare cioè alessi o dietro comunque non so ma comunque bluster non muore porca due non vuole hack anch'io però cioè non usiamo le hack insomma ma comunque ho solo un telefono per vedere la live no nessuno sta vedendo ma adesso mi impegno davvero che ho ma lo sai dopo domani cioè fra tre anni sai quanti la vedranno cioè tra un po' di giorni lo vedranno tutti sì i miei sei iscritti la vedranno che siete pure anche io non è vero sono 29 26 28 scusatemi dopo ne avrai 30 dopo ne avrai 30 grazie grazie così puoi fare lo io ho fatto lo speciale 15 iscritti prima parte lo devo ancora fare la seconda parte cioè praticamente gli ultimi gli ultimi 10 iscritti si sono iscritti in due settimane hanno fatto proprio i zaccano c'hanno bendito e mute bendito e mute bendito e mute no c'è un olografico ma capisci l'operatore che c'ho so io so io che ho rotto la eh ah è chiù eh ma è chiù l'altro chi sarà mai no mi individerete mai merda raga io ho fatto una morte perché perché no perché sei morto una volta abbiamo vinto un uomo dino capisci a me lo faccio vai ok let's go rispondete il telefono di zia ma perché a me non mi è arrivato perché state dietro a quello cazzo di mute no no sto giocando serio volevate il serio me io ve lo tocco con l'olografico oggi ricevo dei soldi quindi fra poco domani io 25 euro io 60 bene volete dire che volete shoppare sì io shopperò quanto è natale appunto quando domani shoppo forse anche shopperò io domani shoppo mi spiego quando 30 euro gli altri 30 sono cose sono cose io ti consiglio di comprarti caveira io consiglio ela io consiglio ela io caveira ela o bc no io i bana io i bana i bana e la è solo mia i bana o ela e la è solo mia e la è solo mia ella è solo mia però non la stai usando i bana i bana non so perché molti bimbi minchia dicono che caveira solo cioè non so perché molti dicono che caveira è buono per diventare pro che asino lì lì l'ho rotto l'ho rotto non ti preoccupare mamma mia con twist blu star mi ha letto una pippa con la tribana comunque preparatevi che sto usando il mio operatore che sta usando da dove? chi ho? chi ho? no dai stavo mirando lì no dalla cucina 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 è spottato ma lo potevi dire che stavo là dronano dronano oh non lo vedo vieni blu andiamo dentro l'obiettivo vieni seguimi lo fanno per i brogliotti blu rimani dentro l'obiettivo tanto prendono la mia cosa io devo non mirare me li vesto sempre te non mirare guarda che uno sta venendo nel frattempo guardami la cam stanno solo rimaste solo quelle là fuori ecco la di palestra vai vai eh pesavviammila oh ma mi ero abbassata come fai a prendermi wall band guarda quella parte mentre li stai abbassando ti ho ucciso raga facciamola rivincita giocando seri si allora quanti spettatori 0 hai prima ne ero venuti 3 hai 26 iscritti e 0 facciamo una challenge per i 30 iscritti quando mi iscrivo si si dai una challenge nascondino nascondino però ora facciamo però ora facciamo la rivincita si dopo facciamo libere però lo youtuber deve non deve cioè deve accoltellare perché no ah si 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 però quando facciamo la challenge lo youtuber deve accoltellare perché si ma quando si iscrive adesso siamo a 29 iscritti cosa perché quando vabbè Dino ha già capito chi mi prendo lasciamela a me prendiamo in chat di gioco perché io non riesco a conoscere cioè non gioco solo perché in chat di gioco e devo andare c'è stato voi che fate un botte di ruborra non è vero ti piace Lu aspetta scegiti l'operatore no raga io so povero non c'ho gli operatori buoni cioè mi so so piccato hai visto è bello si basta sacri vado in chat di gioco io raga vinciamo subito ti immagini la solo è nero per ibana però se non me la rovinerebbe un po' il bana mi piace con la roba chiara Per il mio compleanno mi regali la sole nera per ELA Innanzitutto non so quando è il tuo compleanno Ah bella dove stanno loro Si può che faccio qualcosa per distrarli Io non ho letto a nessuna camera Così li distrago Dov'è? Stanno a sparare Ok Zitto Cri Ah ma sotto loro stanno Vuoi che usi BANA? Eh sì che schifosi Siamo tutti i due ecco Ma non muore però Ma già vici no Adesso mi impegno al massimo Ti giuro che mi impegno al massimo Dove ci mettiamo? A Shamiela Lascia mia e la camera matrimoniale Mi impegno al massimo Ti giuro sulla mia vita che mi impegno al massimo Stiamoci zitti che così giochiamo bene Io gioco come gioco nelle classificate Sai mio fratello si sta zitto Io ho fatto che tengo la luce negli occhi Chiudi la porta Chiudi la porta e fai qualcosa No mio fratello sta dentro la stanza Spagamento il rumore della cuffia Ce l'ho tantissimo Quindi se mi urli mi rompo un orecchio Di sicuro sanno anche Sì torno Il drone rotto Fanno Twitch Oh Guarda lo mi sto facendo i dispetti No mio fratello No mio fratello E' sentita E' sentita Come, come, come Guarda la camera Credo già Dal banni Dal banni No no Ero io Ero io Non muore Ibana Dove? Giù Non muore E' buona qua Te l'ho spottata? Te l'ho spottata? Vabbè ma non muore! E' palle però mi sono rotto il cazzo Ma Mi lascias Basta Però guarda Guardati a clip Per favore Vedi? No ma è buona Io gli ho fatto edyshot E' questo il problema Che non muore Non muore Non muore Chiudi Voglio non giocare Aspetta Aspetta che mi metta lo scafo Si è caricato Non ce l'ate lo scafo? Sì me lo son fatto regalare un attimo Ecco l'ho collegato Non scherzo che io al Gax Non me l'hanno regalato Me l'hanno prestato Il mio amico me l'ha prestato Se mi trovo bene Lo vengo subito Dieci secondi Inserimento tra 5 secondi Non sappiamo dov'è il contenitore di biorischio Aprite il fuoco Ma dove stanno? A sala bigliardo Ma io faccio il culo Carica da irruzione in posizione Fanno valchirie Fuori una Questa è fuori La tena Aspetta Ecco la chi Fatta Aspetta Tu mi devi un po' coprire Che Eccoli Zitto No non te lo prendo Non te lo prendo Esci Dai stava qui Sì però c'è una casca Dino però Stavo pure per fammelo Penso Io stavo uscendo No Buttate prima una flash Plank Volevo nel serio me Peccatevi sto serio me Dove ci mettiamo? Camera Sper che Non mi ricordo una cosa Ho fatto una cosa sbagliata Però non me la ricordo Cos'era Vabbè Io tra 20 minuti Dove pure spegnere Sta uno che sta a guardare la live No aspetta Oh non vale Guardare la live Non vale No ve la state guarda Stanno a guardare la live Ho presentito di Guarda Do commenti Spera Non so Franci Buona fortuna Buona fortuna Grazie Franci Francesco Francesco ci invia Una buona fortuna Franci Non ti preoccupate Vinciamo Stiamo a giocare a serie Ma Ma io facciamo un culo Ma stanno guardando la live Hai detto No 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 È Francesco Quella di prima Che hai dovuto spegnere Io poi Stasera Vedo questa live Perché devo fargli Famili Moments C'è il C4 Te Si Guarda Aspetta Beh Quello Stavo Fa pure io Lui stanno Dove Mi stanno Granando Twitch Schifosi Io non Poi Gli erano Poi Gli erano La mia Posizione Ben No no Hanno rotto Quali Magni Non muore Dai Alessio Non muore Ma che Falle Falli Giro Ehm Vabbè No Ma Cosa Alessio Mi ha fatto Un headshot Bluestar No Non è possibile Mi ha fatto Headshot Bluestar A me Vedi Quando ero Morto Ho sparato Speriamo Che Vincete Ha detto Speriamo Che Vincete Ci sta Della Gente Che Di No Sperché Mi ero Preso Prima Giacca Vamos Ma Lascio Come Prima Giuro Che Se Non muore Gli Faccio Cadere Tutte Le Madonne Ma Proprio In Casa Speriamo Questo Moleno Mi racconta Bucini Che Proprio Tornato 2 1 Go Ah Bada 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 Ma Leggo Spare Fraghi Eh Non Stanno Sotto hanno avuto ha scritto che hanno avuto solo fortuna lo so che hanno avuto solo fortuna drona drona fuori è lì è lì mamma mia aspetta che con gioco io faccio dei one tap mamma mia guarda lì lì che non escono a fare sponchini no però che camper della madonna io rompo una finestra intera e non vengono mamma mia questo è fatto di alessio siamo uniti due spettatori aspettate due spettatori c'hanno due stanno due spettatori dove ergo sopra comunque siamo uniti come loro no no facciamo così loro siamo dei aiuto che ho chi ho che ho aiuto si ci penso io aspettate no sto visto lo visto lo visto aspettate che fai scusami cazzo dai rimane solo lì 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 blu dai e poi io sono morto per colpa del suo del suo cosa no ma se non sai giocare ci fai esplodere la carica ma che fai mi hai lasciato tre di vita io non so giocare io l'ho ucciso io praticamente ho mandato inferimento a Jager con la carica domani possiamo avviare insieme a tre i tuoi amici sì sì non ti preoccupare la faremo non ti preoccupare no no ma ci fai un libro ok chi lo fa? e tu perché la tua live no no la voglio fare io andate a farci no e voi lo volete fare no fa la live no io non lo voglio fare vabbè allora io che ho il gas andiamo a fare il libro da soli no no la faccio io no ma che faccio siamo due di due va bene no sì no ma a sto punto va bene e non è brovera non è brovera non è brovera ciac news Alessi andiamo in chat di gioco no per favore non me va ti supplico vabbè io ci vado se no non sento i passi andiamo Alessio ok andiamo dai io andiamo in chat di gioco ok vai andiamo anche a Nondia sì ecco perché ti prendi sempre Twitch? perché ti prendi sempre Twitch? perché è bello sai Twitch beh secondo ora la prossima volta andiamo in attacco lasciamola a me Twitch che devo fare cioè io so bravissimo è la come si chiama tizio c'è la chi ha l'è? Alessio no 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 Dino Dino solo la loro tattica perché vi ho visto prima in live no in live in partita che vi mettete sempre là barricati io ho visti no lo fa sempre Dino io non lo faccio lo fa sempre 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 guarda la live sono stato qui sopra sulla torretta sono salito e sapevano già che stavo sulla torretta no vabbè però no 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 vabbè devo giocare a serio no però non è possibile entro al cazzo di cane e lui sta là grande dietro dietro grande basta che lo sai tu plus sei bravo però non senti bene con le cuffie la prossima volta prendi Zofia o Dokebi guarda che l'ho già presa una volta Zofia o Dokebi comunque se vuoi la riprendo comunque che mi prendo non lo so non lo so ho vincito ma l'aloro vabbè se devo giocare se vabbè mi prendo mi prendo mi prendo mi prendo è ciò anche se fu tutto se non lo trovo come un impovero un impovero è possibile che abbia una voce una 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 Francesco 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 quella di prima che Francesco quella di prima Francesco quella che hai quittato sì no l'hai messo male lo scudo vabbè tagli la scuda tua lo metto io che faccio meglio no no guarda vada a me va guarda aspetta vedi ma 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 io non devi fare in diagonale sì bravo hai visto praticamente metà dello scudo lo devo mandare a fanculo cantiere edile tutti no cantiere edile sono sponati hanno rotto conoscito sto vedendo col mio drone ecco il primo che già sta venendo spai che drono bagno ma l'ho visto non se poi adesso se le hack perché mi ha fatto wallbang bravo che si è in cucina è in cucina sta dronando asce è lì te lo sto sfruttando ma in realtà dove stanno cazzo ma perché c'ha quell'acqua porco loro che drono andatemi a suga la minga di merda scusami si si esalti mettiamo no ma mi tolgo il milino che ci ha messo cambia impugnatura ma guarda che gli faccio preparati sper no ma gioco a serio zitto che mi concentro di me io così tanto Dino Dino praticamente non fa sponchili perché Dino sponchili solo quando sponchili per cantire edile fanno tipo bella porta d'ingresso ma non sponiamoli se vogliono tocco Jäger ce l'ha tizio ce l'ha Dino 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 ce l'ha adesso chi è Jäger è Dino è Dino ti dico chi c'ha Alessio ti dico chi c'ha Alessio provati fanno sponchili no lo fanno sponchili si rimangono lì però lo fanno sponchili qui su camelo cosa camela 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 ecco ecco quando gioca serio ha detto mamma prende la playstation niente partita però devi fare l'ultima eh ok chi ho il gazz fare l'ultima ok chi ho il gazz devo fare l'ultima ok che mi prendo io faccio l'ultima eppure io non so chi prende me mhm mhm non so che il cuore si due spettature grande sono grande no no uno di loro due sta guardando la live stava guardando la live e hanno visto che operato ci prendevamo spettature no però non vale uno di loro due guarda e toglie la live per vedere che operatori ci prendiamo vedi nemmeno dronano però io no io non gioco con loro mi importa dove sto rinforzando io eh tanto lo sapete già che ci aveva mamma mia che vergogna sono lì sono lì che era bambini mamma mia adesso fa schifo lagga tantissimo ma no no però adesso sta nella mia cosa di Elast no le guardo io le telecamere le guardo io le telecamere va va sta lì ma no no male vai 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 sta stordito sta stordito vai vai sta stordito sta stordito uccisione dai c'era Dino ma Dino è stordito si era stordito vabbè si ma se andavo c'era l'altro che mi uccideva no l'avevi appena ucciso e poi se andavo vabbè si vabbè ma gli faccio vedere io che gioca se no non tocca la mia c'è mia sorella di un nonno che dice blitz blitz e blitz blitz e stanno due in live due in live sono loro forse no 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 uno è mio amico e uno sarebbe francesco francesco coso francesco quello che ha saluto andato tanta la scelta scelta la scelta come lo sai che sono loro a perché mi hanno inviato i messaggi ciao anche a francesco ciao a tutti ciao a tutti ragazzi sono king di tutti dobbiamo vincere è vero che io due in live però francesco secondo me se n'era andata spiegherli leggo ho fatto un bacco a che che non lo sono sempre loro contenitore di più rischio trovato ora raggiungetelo vabbè no non muore per alessio che palle lo spato col gecchino no 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 ma io devo spegnere blu star capito blu star me andate bella la live ci vediamo alla prossima live Grazie.